C'è ancora spazio per una trattativa, ma il numero di civili che mora ogni giorno a Gaza è troppo alto e gli attacchi di Hamas il 7 ottobre non danno a Esraele la licenza di disumanizzare gli altri. Così a tardasera il segretario di Stato americano Blinken risponde alle dure a tratti sarcastiche parole del premier israeliano Netanyahu. Il suo rifiuto plateale nei confronti delle richieste di Hamas, definite deliranti, potrebbero però non avere chiuso definitivamente la trattativa. Oggi al Cairo tornano a riunirsi i mediatori per premere su Hamas perché riformuli le sue richieste come il ritiro totale da Gaza dei soldati israeliani, mentre Blinken a Tel Aviv incontra Benny Gantz, leader di un partito dell'opposizione ma membro del gabinetto di guerra. Anche Gantz è convinto che l'eserito deve continuare a combattere nella striscia per annientare il braccio armato di Hamas, quella che Netanyahu chiama la vittoria assoluta, ma Gantz resta un attore politico decisivo per il futuro di Israele. Perché occorrono leader disponibili a tracciare un percorso di lungo termine per arrivare alla creazione di uno stato palestinese? Lo ha ripetuto ieri Blinken incontrando tra le proteste il presidente palestinese Abu Mazen ed è la condizione dell'Arabia Saudita per una normalizzazione dei rapporti con Israele. I più angosciati sono i familiari degli ostaggi ancora a Gaza. Tra le lacrime ieri sera, Dina Moshe, rilasciata lo scorso novembre da Hamas, ha fatto appello direttamente a Netanyahu. Temo che se continui sulla strada di distruggere Hamas, non ci saranno più ostaggi da liberare.